nella leggenda del gatto chitarrista non c'è solo lui il gatto che suona la chitarra ci sono anche gli altri gatti tutto questo te lo ricordo non avviene fuori di te avviene dentro gli altri non esistono o meglio esistono ma hanno una loro faccia specifica un nome preciso sono ognuno diverso ognuno con una sua precisa dimensione di esistenza gli altri detto così genericamente senza precisione esistono solo dentro di te e bisogna stare attenti perché può capitare che ti buttino fuori dalla società oppure può capitare anche di peggio può capitare che tu gli stia simpatico e che ti considerino uno di loro gli altri sono sempre pericolosi visti da lontano e prima ti avvicini meglio è chiamali con il loro nome preciso il nome il cognome dei tuoi genitori degli insegnanti del prete del capo ufficio pensa persino il capo ufficio ha un nome e cognome ed esiste al di fuori di quel ruolo gli altri invece generici non hanno un nome e se tu ti accorgi di avere un nome solo tuo finisce che con loro non vai tanto d'accordo esattamente come capita a te anche il gatto chitarrista vive molte delle sue avventure affrontando gli altri gatti chi se la caverà meglio tu o lui e Grazie per la visione!